Un festival internazionale a cui partecipano anche dei grandi stranieri, provenienti dagli Stati Uniti, provenienti dalla Norvegia, dalla Kazakistan, dalla Bulgaria, dall'Ungheria e sono giocatori di primo livello. Il numero uno del tabellone è Andrew Vovk dell'Ucraina che all'ultimo europeo è arrivato quinto assoluto tra ben 200 grandi maestri. Quindi la manifestazione è veramente internazionale e abbiamo cercato di invitare dei giocatori di assoluto valore. Il torneo dura per tutti una settimana dall'1 all'8, non è eliminazione ma tutti giocano a 9 gare. Queste vengono svolte principalmente alla Mediateca, nella Sala Ippogia e al primo piano e ci sono altre attività scacchistiche durante l'arco della settimana di valore come la simultanea con il grande maestro e le lezioni con una giovane star italiana di 14 anni, Moroni, che vengono svolte presso il Chiostro di Sant'Agostino, la Sala Capitolare e la cerimonia di premiazione nella Pinacoteca San Domenico. In questo modo la manifestazione, oltre che avere un carattere sportivo, riesce a dare un'impronta turistica alla città di Fano portando tutte le famiglie per un lungo periodo a dare una visibilità nazionale e internazionale all'estero e contemporaneamente riusciamo a valorizzare il centro cittadino mettendo in mostra quelle tre sedi che abbiamo già citato e che sono un'occasione per mostrarle ai turisti. Grazie.